Se avete consigli, mi raccomando, mandateli pure, scrivete sui messaggi qualcosa, cosa fare. Io, ad esempio, oltre in orto, anche qua sul balcone ho impiantato un po' di cose, ad esempio questo, c'è scritto anche il radicchio di Trieste, impiantato al 4, siamo al 9, è già venuto fuori. Questa è pianta infestante che però è mangiabile, ho fatto un video tempo fa, molto buona, non mi ricordo neanche come si chiama, il basilico, il basilico cresce, lentamente ma cresce, addirittura le zucchine, nel campo, mamma mia quante macchine, nel campo le ho impiantate, in mezzo alla terra, allo spazio, piantine acquistate già, già fatte, già natte, grandi, Cos'era successo? Sono rimaste piccoline, piccoline, come le ho acquistate, queste impiantate da semi miei. Aspetta che qua c'è una confusione, la fine dei semi miei, dopo un poco sono venute già, vedo che ci sono delle zucchine, fiori, altre zucchine, questa anche, grande, gigantesca, in vaso, mentre le altre, quelle acquistate già pronte, già cresciute, cresciute, sono rimaste piccoline, sulla terra, sarà la terra più buona, più concimata, più terra con vitamine, ecco, adesso non so neanche cosa, questa in due giorni è già venuta fuori, nell'orto ancora ci sono due piantine, sparpagliate, vive, le altre sono tutte morte, e basta macchine, mamma mia, ecco qua. Se intendete molto di più di me, datemi qualche consiglio, bene accetto! Grazie! 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 Grazie!